ha partecipato anche al censimento di istat agricoltura ho mandato tutti i dati difficoltà giusta dai come è cambiato il vostro lavoro dopo la pandemia del covi per noi non è cambiata molto perché alla fine non abbiamo risentito nessun calo di fatturato l'agricoltore deve seminare i campi vanno seminati e noi onestamente non abbiamo risentito di effetti negativi la digitalizzazione ha influito positivamente sulla sua azienda per fortuna i social ci stanno aiutando tantissimo pure il commercio ormai si sta spostando tutto su internet i canali informatici c'è proprio un ritorno alla terra per dove io almeno io vedo il futuro